Arriva come un fulmine a ciel sereno. Dopo oltre quattro anni si dividono le strade dell'Union Clodiense del direttore sportivo Roberto Tonicello. Con un comunicato apparso nei canali ufficiali della società, il presidente Ivano Boscolo Bielo ha annunciato le dimissioni per motivi di lavoro dal ruolo di direttore sportivo di Tonicello, ringraziandolo per il grande lavoro svolto nelle ultime stagioni. Tonicello è stato negli ultimi quattro anni uno dei protagonisti della società, allestendo la rosa della clamorosa salvezza nella stagione 2018-19 e quindi con il suo lavoro portando al terzo posto nella stagione 2020 mai conclusa per il Covid. Il quarto posto nel 2021 è l'ultima stagione culminata con il secondo posto e la finale con l'Arzegnano. Grande curiosità ora su chi sarà il successore di Tonicello, in un ruolo importante, con la finestra di mercato di novembre per puntellare la squadra, qualora ce ne fosse il bisogno, non troppo lontana. Grazie a tutti!